La targa che scopriremo a breve serve per non dimenticare e non ripetere gli errori del passato. Signor Primo Ministro, in questo cimitero sono sepolti 1063 italiani. Molti di loro, molti di loro, persero la vita al fianco di quegli stessi soldati serbi che la Marina italiana aveva salvato pochi mesi prima.